Della presenza di un tunnel sotterraneo al castello Poggio di Ana, una sorta di passaggio segreto sia per il trasporto dell'acqua sia come via di fuga in caso di attacchi al castello, hanno parlato diversi storici riberesi a cominciare da Vincenzo Navarro. Adesso c'è la certezza della presenza di questo tunnel dopo il rinvenimento operato dal medico riberese Domenico Macaluso, direttore scientifico del WWF Sicilia Area Mediterranea Settore Mare, che da anni si occupa di ricerche storiche archeologiche subacque. Questo castello tradizionalmente si diceva insomma che era dotato di alcuni camminamenti segreti delle vie di fuga e già qualcuno parlava in quel periodo di una doppia funzione di questi camminamenti, il convogliamento di acque per alcuni mulini che insistevano lungo il vetro del Verdura e una via di fuga, ma soprattutto Raimondo Lentini, il nostro storico riberese, aveva trovato un documento del 1562 in cui Pietro De Luna si impegnava a costruire, dava mandato di costruire ad alcune maestranze palermitane un tunnel, una galleria con determinate misure che consentisse appunto il convogliamento dell'acqua ma che fosse così alto anche da permettere alla gente di attraversarlo. Bene, dopo tanti anni ho individuato, tra l'altro non si trovava perché l'ingresso di queste gallerie era tra le radici di un secolare albero di olivo, di olivastro e quindi all'interno ho visto che era percorribile almeno per 80 metri, quindi è una cosa molto bella anche perché effettuate le misurazioni di questo canale corrispondono al centimetro alle misure in canne e palmi del documento del 1562. È auspicabile a questo punto che oltre a una messa in sicurezza del castello che possa diventare un luogo dove fare delle manifestazioni esempio estive tipo come abbiamo a Palermo la chiesa dello spasimo, possano queste gallerie, questi camminamenti in parte esterni lunghi anche due chilometri, possano essere messi un po' in sicurezza sistemati anche perché già in questo momento due associazioni che si occupano di trekking organizzano delle escursioni dove partecipano gruppi di tutta la Sicilia quindi tra l'altro la Valle del Lupo è straordinaria ed è stata da poco dichiarata sito di interesse geologico nazionale, quindi è un luogo veramente straordinario da poter fare visitare a tutti. All'incontro durante il quale è stata presentata la scoperta effettuata dal dottore Macaluso ha preso parte l'architetto Michele Benfari, soprintendente ai beni culturali di Agrigento, che attraverso la nuova programmazione europea spera di finanziare i lavori e gli interventi di cui necessita il castello di Poggio Diana. Siamo qui proprio per verificare la fattibilità di un progetto da qui a qualche mese. Il progetto del consolidamento e del restauro strutturale è stato definito negli anni 90 prima che io andassi via dalla soprintendenza di Agrigento e poi fu portato avanti con la direzione dei lavori di altri colleghi. È un luogo dell'anima di straordinaria bellezza, peraltro è individuata questa bellissima torre circolare dove all'interno c'è una splendida volta crociera di origine feridiciana e quindi ci sono degli elementi peculiari che vanno assolutamente conservati e fruiti. Il problema di Poggio Diana è proprio la fruizione perché non c'è in questo momento una possibile strada naturale che ci possa portare lì senza disagi. Bisogna capire ora con i fondi europei oltre il 20 perché questi sono stati già abbondantemente spesi e bisogna capire se ci saranno delle misure per i prossimi POFES tali da poter intervenire con progetti esecutivi.